all'impostazione di fps tra l'altro ora che ci penso dove cazzo sta disabilito l'anti aliasing pack di sit ma ora l'ho detto che mi sta venendo mal di testa gioca vincere per la chat oggi ci provo ma messaggio ma chi con indirizzo c3 scelgo il cuoricino e dell'occhio claimer e serve anche un nominativo per tipo tu se maggiorenne o i genitori nel caso grazie pincio gentilissimo elephant grazie mille del secondo mese grazie mille caro gentilissimo ragazzo cuoricino in chat come stai caro io che ho diventato fps un'opzione off guarda che magari guarda per curiosità provo come si vede come si vede dallo stream si vede diverso si vede bene vedete qualche tempo vabbè non si sa mai qualcuno non è light abbiamo quattro torce non l'aspettavo tutto a posto grazie voglio vedere se così mi droppano gli fps cambiato una fava ma è un billy vedo che droppa un po gli fps in realtà però se non mi sembra cambiare niente lo riabbasso cioè si vede che è un po più bella grafica però non sento c'è del di lei tra audio video per tutto solo per te drogato ho visto una cosa che mi va fastidissimo oh mio dio no scusami un attimo ma devo fare sta cosa ok io ti vedo sincronizzato sta arrivando io l'avevo visto non pensavo riuscisse a curvare bene nel finale onestamente però è un bravo billy quando avrà barbecue sicuro il donali lo però buono sapersi avrà 4.4 ci riproviamo c'è anche la possibilità di fare una crouch tech contro di lui però è difficilino morsa di ferro ok quindi la morsa di ferro lightborn fa l'agitazione supponso la morsa di ferro si ma ci sono una pressione assurda uff il legnetto di merda unlucky vediamo se fa dei delle curve si ma si ma non è che non lo proprio perché sennò come avrebbe evitato bambuso probabile no mi molla qui abbiamo un tl ok saltiamo la l saltata la l torniamo all'altro la pallet dall'altra finestra che abbiamo ancora questo pallet anche se la finestra sia bloccata abbiamo comunque il pallet ma proviamo a mindgamerlo holdendo W e basta fortunatamente non riesce a prendere l'angolazione giusta da lì ok ah già che c'ha lightborn ups 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 lo sarebbe lightborn non può essere flashato in pratica abbiamo ancora di nuovo questa finestra con questo pallet quindi non abbiamo neanche bisogno di speckare il pallet va che bellezza no ne ho per questa holdiamo W ahia dovrei arrivarci mi va di M1 per forza lo pre-drop prega niente se lo rompe tanto ormai siamo verso la fine manca un gen uh failato rip adesso abbiamo anche speranza attiva c'è ancora il pallet qui sopra ottimo tanto gli diamo tempo per le porte ah c'ha lightborn uh 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 nice try è schiantato lol what poverino ma questa porta è chiusa no per l'altra mmm dovrebbero aprirla ma questo è il problema quando ti intestatrici troppo con una persona comunque scusate se no ho venuto in texas stasera scusate se non vi ho letto ma ero un pochino preso sì sì ma è un pipo pippa ma perché non posso essere io bravo scusatemi non lo so ehhh es ha perso il bonus di Hop con il peso della popuna delle mutande non so di cosa stai stia parlando Aveva doppio incisione Pazzo Barbecue ok ce l'avevo ovviamente